La penultima gara casalinga per Lanzio Lavinio si sta per concludere una stagione con Aiello e con Vattone, tanti gol quest'anno, che cosa però è mancata fortemente in questa stagione? Ormai siamo quasi ai titoli di coda. Ma diciamo che siamo andati bene tutto il campionato, poi quando c'è stato il momento decisivo che veramente dovevamo spingere ci siamo un po' a rese e questi sono i risultati. A meno 8 dalla prima però non vogliamo perdere il secondo posto, assolutamente dobbiamo vincere tutte e due le prossime con questa 3. Ecco, andare a vincere queste due restanti partite per chiudere la stagione al secondo posto con la speranza, mantenerla sempre viva, di poter ricevere una bella notizia proprio alla fine della stagione. Sì, comunque dobbiamo dare un segnale importante. Abbiamo perso di lucidità queste ultime partite e purtroppo abbiamo permesso alla squadra che sta in testa, alla classifica, di primeggiare. Però comunque è importante vincere le ultime due partite e appunto dare un segnale importante, arrivare seconde e magari veramente sperare di una buona notizia o comunque giocarcela in Coppa. Quando si parla di mancanza, di qualcosa che è venuto a mancare, ma è venuto a mancare perché forse avete creduto meno alle vostre forze o perché veramente avete dato tanto a questo campionato? Abbiamo dato tanto a questo campionato, ma potevamo sicuramente dare di più. Sicuramente è stata una mancanza grande da parte nostra non tenere lucidità nelle ultime partite. Purtroppo questa è la classifica e cercheremo di fronteggiare in altri modi e comunque di primeggiare e di guadagnarci il posto che meritiamo. Nell'anno che praticamente si sta per concludere per questa stagione, una squadra che veramente ha fatto punti più di voi, quindi la capolista, poi in realtà si è mostrata tale da poter ricoprire quel primo posto? A mio parere sì, la squadra gioca bene, è compatta, è una rosa forte, valida, quindi il primo posto è meritato. Ovviamente lo volevamo noi, però loro l'hanno meritato sicuramente, ci hanno creduto fino in fondo. Ora ci avviciniamo alla fine della stagione, però c'è ancora da disputare questa Coppa. Si può fare qualcosa ancora di più? Ci sperate tanto? Si può fare, visto che ormai il campionato è andato così, proveremo a concentrarci solo sulla Coppa e speriamo di vincerla.